Tragedia sfiorata la sera dello scorso primo settembre all'interno di un circolo recreativo di Cerignola in zona addolorata. Erano le 22 e 30 circa di venerdì scorso quando la sala operativa del commissariato di pubblica sicurezza aggiungeva una richiesta di intervento per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. Immediatamente gli agenti del locale commissariato e del reparto prevenzione crimine di Lecce raggiunto il luogo avevano notato un circolo recreativo stranamente chiuso a quell'ora e atteso che l'esercizio rieprisse nei giorni successivi hanno eseguito uno specifico controllo dal quale è stata effettivamente appurata la presenza di un foro simile a quello di un proiettile sotto la volta. Nelle vicinanze del bagno poi rinvenuto anche un bossolo esploso calibro 7,65. Ascoltato il gestore del circolo recreativo l'uomo ha dichiarato che quella sera mentre era all'interno della sua attività unitamente ad alcuni soci entrò un uomo armato di pistola che sparò colpendo il soffitto e fuggendo subito via. Solo per puro caso logivano colpi presenti che nel frattempo per la paura si allontanarono velocemente. Dalle informazioni raccolte si è appreso che a sparare era stato un vicino di casa con cui qualche minuto prima dello sparo il gestore del circolo aveva avuto una discussione accesa a causa dei rumori causati dagli utenti. Durante la perquisizione domiciliare a casa del 39enne in questione gli agenti hanno effettivamente rivenuto la pistola usata per sparare, detenuta legalmente e consegnata spontaneamente dallo stesso responsabile che ha raccontato di aver agito a causa dei continui schiamazzi. Per lui solo una denuncia, un gesto folle che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze e che arriva a 15 giorni di distanza da un'altra tragedia consumatasi sempre a Cerignola con l'omicidio di Stefano Tango.